Come avrà vissuto la disfatta della nazionale italiana chi la Coppa del Mondo l'ha alzata davvero nel 1982? Siamo andati a raccogliere le impressioni di Ciccio Graziani che non usa mezzi termini per descrivere il fallimento azzurro. Ma tanta delusione, tanta amarezza, tanto dispiacere per il movimento calcistico italiano perché dover vedere i prossimi mondiali senza un'Italia non c'è gusto. Io stanotte sinceramente ho fatto fatica a dormire perché ripensando a quello che doveva essere e non è stato c'è grande rammarico, grande tristezza. Però il calcio ci ha abituato a vivere momenti esaltanti, momenti bellissimi, a dei momenti anche difficili come questo. Da che cose di peso le cause possono essere tante? Che interpretazione dà Ciccio Graziani? Evidentemente ci siamo trovati a fare questi playoff con dei calciatori che non stavano assolutamente bene in questo periodo. Anche il fatto che Ventura abbia voluto portare avanti un progetto tattico con questo 3-5-2 che poi è un 5-3-2 alla fine, sacrificando dei talenti come lo può essere in signe, è un altro peccato mortale. Le squadre si costruiscono attraverso i talenti, attraverso la gente che sa giocare bene al calcio, non privilegiando gli aspetti tattici. Che poi se andiamo a vedere, questo aspetto tattico che cosa ci ha regalato alla fine? Solo una grandissima delusione. Da vecchio e lo stesso Ventura si dovrebbero dimettere? Ma è la prima cosa che avrei potuto fare. Sì, io ero in Ventura. Ieri sera innanzitutto andavo ai microfoni della RAI, avrei spiegato le mie scelte, credendo in quello che facevo, assumendomi le mie responsabilità, ma siccome le scelte non hanno pagato i miei pensieri, le mie volontà, automaticamente io ieri sera mi dimettevo in diretta, chiedevo scusa agli italiani, mi assumevo le mie responsabilità, forse me ne assumevo magari anche qualcuna di più. Grazie.